Luca Paccioni, 27 anni, Italia. Ho iniziato a correre in bici 14 anni fa, ho iniziato nella categoria G5, giovanissimi, ora mi ritrovo qua. La prima settimana direi che è stata più che è positiva, ci siamo allenati duramente e abbiamo fatto secondo me un'ottima base per questo 2021. Domenica ci sarà il debutto stagionale, speriamo di avere delle buone sensazioni, di portare a casa una vittoria che per la squadra sarà molto importante. Una sensazione indescrivibile. Io fino ad ora ho utilizzato diverse diverse marche di biciclette ma come questa davvero è una bicicletta che non riesco a paragonare a nessun'altra grazie alla sua rigidità, la sua leggerezza e devo dire che sia Ivan che Alberto hanno ideato un telaio davvero davvero ottimo per quanto riguarda l'ambito ciclistico. Sicuramente sarà uno spunto in più per dare il massimo e per cercare di ottenere il massimo dei risultati possibili anche in ottica futura perché secondo me dovremmo solamente ripagare tutto quello che loro ci hanno dato finora e di conseguenza non resta solo che pedalare, pedalare forte per ottenere il massimo per questo grande grande progetto, grande squadra. Solo che vincere, paraganare!